Voglio ribadire e ripetere che l'intera legge elettorale per quanto riguarda la presentazione delle liste con le firme legali allegata è stata violata dai comuni, dagli autenticatori, dal servizio pubblico RAI. Il che ha costretto liste politiche come quella Bonino Pannella, ma non solo, a non essere presenti per preclusione di illegalità, non per voto degli elettori, in regioni importanti politicamente come la Lombardia, il Veneto, la Liguria e andando giù giù le Marche, eccetera.